Amici, oggi apriamo insieme tantissime mystery box di Hello Kitty Vediamo quale sorpresine troviamo, ma prima sigla YOLANDA SWITZ Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video Come state? Spero tutto bene, come avete passato la vostra giornata? Spero bene Ciao amici, io sono Yolanda Switz ed oggi sono tornata con un nuovissimo video dedicato alla Sarrio e ad Hello Kitty Ho comprato un sacco di mystery box con giochini, pupazzetti eccetera eccetera dedicati a Hello Kitty Andiamo appunto a scoprire come sono, ma prima di iniziare il video mi raccomando amici lasciate un bel like Iscrivetevi al canale ed attivate la campanella perché trovate tutti i miei video tutti i giorni alle 14.30 e anche alle ore 18 sempre sul mio canale Isitate il mio sito, trovate il link diretto in descrizione www.yolandaswitz.it Direi quindi adesso di cominciare per vedere come sono Allora vi faccio vedere cosa ho comprato, già ho fatto un video in precedenza un po' di mesi fa Andatelo a recuperare, magari ve lo lascio nella i delle info Ho comprato i pupazzetti personaggini appunto di Hello Kitty Nello scatolino ne sono usciti 4 Poi due tazzine di Hello Kitty super super carine Questi che mi incuriosiscono tantissimo che sono due zainetti All'interno delle cosine quindi sono super mystery Ovviamente le casettine con i personaggini di Hello Kitty Iniziamo dalla cosa che mi piace di più ossia lo zaino Quale apriamo? Prima quello rosa o prima quello rosso? Direi di aprire quello rosa Sono diversi tipi di zaini e qui in realtà ne abbiamo sei E abbiamo quello romantic Allora si possono attaccare ovunque quindi sono anche dei portachiavi in realtà Questo qua e ne dico la costa 8 euro Quanto è carino È tutto rosa ed è tipo plastico so è originale Sanry Con su scritto Hello Kitty proprio con le manichette Uuuu carino Vi faccio vedere cosa abbiamo trovato all'interno una cosa alla volta Abbiamo il quadernino con Hello Kitty tutto rosa Bellissimo Una gomma da cancellare Un decotape appunto di Hello Kitty con i cuoricini Altre tre cose Il moschettone Abbiamo degli adesivi Dei pastelli Siccome ne abbiamo quattro andiamo ad aprire uno di questi pupazzetti di Hello Kitty Apriamo quello viola Ne abbiamo a questo giro otto Noi ne abbiamo trovati quattro Dovrebbero aprirsi così Bello Abbiamo trovato Hello Kitty Tigrotto In realtà questo dovrebbe essere uno squishy peluche Profuma Abbiamo sia l'adesivo e poi ovviamente la checklist Veramente super bellini Qui abbiamo il tigrotto che si può colorare E uno che è uno sticker Con il QR code Sono tutti gli Hello Kitty che possiamo trovare Intanto io nella prima scatolina ho trovato il tigrotto Non ci spoilerano niente perché si vede solo la faccetta di Hello Kitty Quanto è carino E poi come potete notare dallo Slow Rising È un peluchetto Squishy super super carino Mi piace Mi piace Voto 10 Procediamo con la prima tazzina Ora io spero di trovare ovviamente degli squishy diversi Perché dall'interno di questa tazzina escono degli squishy Qui abbiamo la checklist anche Non lo so No in realtà non c'è nessuna checklist Ma ci dice semplicemente che possiamo trovare in ogni tazzina Un Hello Kitty E questi qua ne dicono che costano 7 euro Per attivare la nostra tazzina Qui c'è uno strato molto leggero C'è bisogno di bagnarlo appunto con l'acqua In modo da far fuoriuscire il nostro squishy Come vedete questa carta che rinchiude lo squishy Assorbe l'acqua e fa uscire pian piano lo squishy Vedete quanto è carino ragazzi E voilà è uscito il nostro squishy che piano piano emerge dall'acqua Squishy è super super simpatico Guardate quanto è carino E' proprio Hello Kitty Nella sua forma più carina Dietro ha anche il marchio Sarrio E questa è la piccola Hello Kitty Che è super super squishiosa E' molto semplice ma proprio in generale al meccanismo mi piace Voto 10 Molto bellina Procediamo adesso con una casetta In realtà sono tre Da dentro la confezione sono uscite Viola, azzurra e gialla Ma in realtà ci spoilerà già lateralmente i personaggi che possiamo trovare Apriamo la casetta Viola E vediamo quale Hello Kitty troviamo E' molto carina perché è tutta Viola Fiocchetto rosa e può Apriamola e voilà Abbiamo trovato Hello Kitty Senza incarto Alcune volte c'è e altre volte no Molto bellina Ed è questa Hello Kitty Le pantofolina d'orso acchiotto E' molto molto carina Che è un Hello Kitty Che tecnicamente si mette all'interno della casettina E poi si chiude E si chiama Hello Kitty Pijama D'altronde degli adesivi Vero super simpatica Mi piace molto ed è fatta molto bene Adesso apriamo un altro pelucetto Ed è questo qua Roscio Questa è bellissima Quanta è bella Ma che cos'è Il cappuccetto rosso Siiii Non ci posso credere È Hello Kitty Cappuccetto rosso Raga E' stupenda Ma poi quanto è morbidosa Quanto è bellina Molto molto squisciosa Come sempre abbiamo Anche l'adesivo all'interno Apriamo un'altra casetta E poi lo zainetto Abbiamo questa gialla Tecnicamente Già c'è lo spoiler E' fatta così Con il pupazzetto dentro Tutta gialla Porta rosa E i pua Sull'orecchio Uh questa non mi è mai uscita Ma neanche l'altra Ragazzi Quanto è carina Guardate Hello Kitty Con il vestitino giallo E anche gli occhiali Come si chiama Queste Hello Kitty Hello Kitty Occhiali Bellina Mi piace tanto Apriamo Quest'altro zainetto Rosso Che è quello Totally Kitty Il rosso È proprio Il colore Appunto Di Hello Kitty Molto probabilmente Lo zainetto È questo Con Hello Kitty Il faccione gigante Con tutte le mini mini Hello Kitty Disegnate sopra Andiamo ad aprire La cerniera Un'idea geniale Questa mi piace tantissimo Sì Abbiamo Sempre le cose Per la scuola All'interno Diverse Vediamo Vediamo Ragazzi Vediamo Come sempre Abbiamo il moschettone Anche qui Per legarlo Vicino allo zainetto Ma abbiamo cose diverse Una penna Gomma da cancellare Fiocchetto Gli adesivi Di Hello Kitty Un block note Ma questo è fantastico Poi Un quadernino A righe Raga È Bellissimo Tutto ciò è fantastico Io Veramente Gli 8 euro Posso dire Un po' caro Ma ci valgono Tantissimo Abbiamo Due squishy pupazzo Una casetta E la tazzina Apriamo la tazzina Vediamo quale squishy Ci esce Questo qui Era totalmente nuovo Non mi era mai uscito Prima Ora sono curiosa Di vedere Se da questa tazzina Mi esce Un altro squishy O qualcuno Che ho già trovato Iniziamo A bagnare La tazzina E piano piano Esce La nostra Hello Kitty Che è rinchiusa Dentro Bella La nostra tazzina Ragazzi Guardate quanto È piegata Perché è tutta piegata Visto che è rinchiusa Lì Vabbè Adoro Adoro Io non l'avevo capito Mica Che bella È una Hello Kitty Sirena Sì Hello Kitty Sirena Questa qua Con la Vabbè Bellissima Ragazzi È squisciosissima E infatti Abbiamo anche dentro Lo sticker Di Hello Kitty Sirena A questo punto Apriamo anche L'ultima Oh questo qua Invece già L'ho trovato In precedenza Ma mi piace Comunque È un Hello Kitty Koala Quanto è carina Molto molto bellina Hello Kitty Koala Avrei preferito Forse un Hello Kitty O Fiorellina O Classic Comun Oh principessa Belli Però pure questo È molto carino Perché è il costumino Da Koala Ovviamente C'è Lo sticker Come tutti Adesso L'ultima cosa È la casettina Questa qui Azzurra È bianca Vediamo Quale Hello Kitty Abbiamo trovato Oh ci sono le stelline Sull'orecchio 3 2 1 Che carina Allora L'unica appunto È che forse Sono un po' sporche Queste Hello Kitty Ragazzi Non so perché Ma abbiamo Hello Kitty Versione mare Con il salvagente Ok amici Allora Grazie a tutti Per aver visto Questo video Spero che vi sia piaciuto Come al solito Io vi mando Tanti bacioni Un abbraccio stretto E ci vediamo Come sempre Domani alle 14.30 Con un nuovissimo video Ciao Ciao